Alla, ma il gruppo pubblico che fin ha fatto l'ho tolto, l'ha un pezzo, probabilmente non mi apne l'ho più un po' Non ho fatto un cazzo, giuro! Cosa è successo? Scusate! Ma la spank non era prevista sta cosa? So già che tu la prenderai e la metterai come clip sul tuo canale Sicuramente, probabilmente prenderai tutta sta parte di live e caricherai sul tuo canale Albi ripari i controlli in live che li si rompono a cazzo Già, già ti conosco, spank, lo farai! You're goddamn right! Meanwhile Ok No 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 Deve fare il bucato No No What the fuck Tu vai insieme Che merda Oh, prendi sto cretino Vai Noggio buio No, le triglie sono lago, mi sa No, a parte di scherzi, le triglie mi sa che sono pesci da lago Nope Ok Questi pali sono generatori di energia, non toccare i pali nei fasci di energia Ok Ecco perché compatri, perché è difficile Non è brutto Le crew 2, a me non è dispiaciuto Ti butta giù What the fuck Ho fatto a caso Non ho fatto a caso Non lo so come ho fatto Perfetto Adesso c'è abbastanza energia Ecco Sarai ricompensato Tornare qui, capito? Ma mi stai ascoltando? Ascoltare, capito? Ciao Abo Qualcosa di Madonna Telecamera Tenente Spag Sei bello Lo dico qua in live Spaghetti Frag Sei figo Questo finirà sicuramente nella clipboard di Spag degli audio Ne sono onorato sicuramente se lo fa Era Che E Grazie a tutti.